Siete pronti? Come no? Daniela devi dirti sì, sei davanti alla telecamera. Allora, Daniela e Fabrizio, è tuo marito? Avete fatto questa scelta insieme o è uno dei due che ha scelto di farlo? No, insieme, insieme. Ah, bravi. Sì, è il tuo regalo di... 43 anni. Oh, auguri, quando li hai fatti? 18 giugno, luglieri 41. Augurissimi, avete fatto una cosa insieme, hanno detto facciamo un mega regalo entrambi e andiamo a fare un bel lancio in tandem, bravissimi. Siete carichi? Quanta ansia ha potuto prelevarti? Eh, un cento. Fantastico, guarda che bello, ti fa carico della tua ansia, però è giusto avere un po' di di cacarella, no? Bene, allora ragazzi, io vi auguro di divertirvi, poi quando scendete mi dite come è andata. Va bene. Va bene, noi però possiamo bere a fine attività, quindi cioè dovreste aspettare... Va bene, grazie, ciao ragazzi. Ciao, paì. Perché ti dono la schiena? Ciao. 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 Allora, adesso, non ci diamo, dai! Bellissimo! Amore, semplice! Grazie a te, è un'esperienza fantastica! Grandioso, grandi! Grazie a tutti!